L'Atalanta comincia stasera il cammino da favorita assoluta, l'obiettivo è chiaro, promozione, insomma è ritorno in Serie A, il primo ostacolo è il Vicenza, ormai un'istituzione in B. Baclay para sul sinistro, consigli, subito Vicenza, subito Baclay. Non è che arriva verso Baclay, che sfiora ancora il gol, super consigli, che avvio nel Vicenza. Balla dentro l'area di rigore, ha segnato l'Atalanta con Fettinari, non benissimo il portiere, direi, ma il gol è dell'Atalanta. Il pallone che prima in area di rigore, Arte Magni di testa. Attenzione! Fettinari a Tiri Bocchi, al volo, è pronto Frison. Arte Magni va giù, cazzo di rigore. Arte Magni, Frison, grande parata. Botta il cross, il gol è di testa di Abruscato, parata flette di consigli. Ma scienza, il pallone è dentro, Tiri Bocchi. Mamma mia, che parata Frison. Trova un basso, Bellini, va giù, Bellini, alto, cazzo di rigore. Tiri Bocchi! È il 2-0 del tir! Buonaventura, il pallone largo per Arte Magni. Arte Magni è al limite, dentro c'è Fettinari, Fettinari! Fuori gioco. Il calcio sbuca, attenzione, c'è Abruscato in area di rigore. Consigli, con un piede salva tutto. Pazzigiani, pallone dentro per Martinelli, il colpo di testa. Ancora Consigli, due volte. Non c'è più tempo, finisce qui, vince l'Atalanta. 2-0 sul Vicenza. È stata una bellissima partita. einerивать la piena partita. 3-0 sul Vicenza. 5-0. 6-0. 6-0. 8-0.